Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato A dirlo è Enrico Montesano, escluso da Ballando con le stelle per aver indossato una maglietta della X-Mas durante le prove, convinto che i valori democratici e civili siano stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione Mi sono perfino scusato con chi si è sentito offeso L'attore, che alcuni giorni fa aveva pubblicato un post su Facebook in cui diceva che essere trattato come un pluripregiudicato fa male, ora torna alla crita chiedendo formalmente alla RAI di reintegrarlo nel programma, per avere la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica la mia posizione Ho indossato una maglietta, durante le prove, recante simboli della marina militare italiana, sottolinea l'attore, assolutamente legale e legata a momenti non solo bui e dolorosi, ma anche gloriosi e meritevoli di essere celebrati, tanto che in occasione di avvenimenti ufficiali hanno spilato e spilano, alla presenza delle più alte cariche dello Stato Ora la stessa RAI sta realizzando un film sull'eroe che gesta del comandante della X-MAS, Salvatore Todaro Chiedo formalmente alla RAI di tornare sui propri passi e di reintegrarmi nel programma, per darmi la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica la mia posizione, altrimenti riuscirebbe difficile non credere ad un accanimento ad personale Sono un uomo libero, di pace e di dialogo come la mia storia personale ed artistica dimostra, aggiunge Montesano Vorrei tornare a fare il mio lavoro per il pubblico che non mi ha mai lasciato solo e ti ringrazio di cuore A chi ha strumentalizzato la vicenda, dandone una lettura artatamente negativa, per interesse, ignoranza o leggerezza, conclude Montesano, dico che non ho commesso alcun reato, indossare una maglietta non vuol dire ineggiare a nulla e nessuno, come quando si indossano magliette con altri signori, scritte e immagini Grazie